Allora, preso in contropiede al dottor Imercati. Allora, l'argomento che trattiamo assieme tratta proprio dei carichi di lavoro. La preparazione, l'esposizione che faccio io cura proprio il carico di lavoro destinato ai tecnici di radiologia. Allora, per questa relazione abbiamo fatto riferimento al modello che è stato preparato dalla nostra federazione nazionale assieme alla società Sago, che è una società che si occupa di organizzazione sanitaria, facendo riferimento a un analogo lavoro che è stato fatto in un periodo tra il 95 e il 97 dalla SIRM per definire un metodo di analisi per la produttività dei medici radiologi. Quindi, per quanto riguarda i metodi e dei criteri, tutto il lavoro fa riferimento a questo documento. Quindi, quello che vedrete qui in seguito sono solo delle considerazioni personali. Vi dico che questa relazione avrebbe dovuto farla il nostro collega Giuseppe Bardo, che è il presidente del Collegio di Milano, ma purtroppo, lui oggi è a Torino dove c'è la riunione del Consiglio nazionale. Quindi, mi ha scaricato questo onere. Allora, dobbiamo tenere conto che in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, la politica della massima efficienza e quindi sommato al contenimento della spesa, inevitabilmente può portare a due fattori critici. Uno è la perdita della qualità del risultato, quindi questo va a discapito della salute dei cittadini. La seconda è la criticità del lavoro, quindi che porta ad aumentare lo stress del lavoratore e a far diminuire i valori di sicurezza delle prestazioni. Quali sono fondamentalmente i fattori preponderanti per una ottimizzazione o per definire carichi di lavoro? In primis le risorse umane, la logistica e le tecnologie. Questi sono i tre fattori che entrano in gioco quando si deve andare a determinare uno standard organizzativo per definire carichi di produttività. Dobbiamo fare una precisazione. Quando noi parliamo di risorse umane, dobbiamo intenderle come persone, ovvero il mezzo che ci permette di arrivare al raggiungimento dell'obiettivo. Sono molteplici i fattori che entrano in gioco quando noi dobbiamo raggiungere un obiettivo. Sono personali perché ogni persona ha le proprie attitudini. Deve essere stimolato, quindi il contesto lavorativo ha un ruolo fondamentale e soprattutto il lavoro d'equipe, che poi vi spiegherò con più appropriatezza, è fondamentale perché noi tutti siamo abituati a lavorare in equipe. I punti fermi di questo studio sono fondamentalmente quattro. Il primo, ma è stato messo primo apposta, è la salvaguardia della professionalità del tecnico di radiologia. Il secondo punto è la valutazione dei fattori correttivi che verranno chiamati i pesi, che devono essere indicati per ogni singola prestazione. Terzo punto, tenere sempre sotto controllo la qualità, ma soprattutto la sicurezza delle prestazioni. E poi il lavoro deve essere concentrato sulle reali attività operative del tecnico di radiologia e delle singole prestazioni. La risorsa umana è assieme un fattore strategico, ma nello stesso tempo un fattore critico nella determinazione della produttività. Il fattore strategico perché se il tecnico di radiologia viene inserito in un contesto particolare, viene stimolato, gli viene data la possibilità di rimanere aggiornato, di fare corsi di specializzazione, è lui l'elemento che fa pendere l'ago della bilancia. Automaticamente però diventa anche il fattore critico, perché basta che una di queste componenti venga a mancare, che tutto il lavoro che noi possiamo metterci in ballo per fare possa decadere. Come vi dicevo prima, le risorse umane e quindi la persona, perché chiamarle risorse umane è un po' denigrativo, le persone che entrano in gioco sono molteplici. Nel lavoro d'equipe troviamo, nella nostra radiologia troviamo il medico radiologo, che anche lui ha una funzione, ma non è comunque la persona che ha il potere assoluto, perché noi tutti abbiamo delle responsabilità e delle limitazioni nel nostro campo. Il medico radiologo ha le sue, il tecnico di radiologia ha le proprie, perché anche noi abbiamo delle competenze, abbiamo un campo di azione che è abbastanza delimitato, c'è il nostro codice deontologico, come diceva prima il collega, ci dà delle indicazioni, ma non sono delle leggi che ci dicono tu puoi fare da a, no, perché poi comunque in ogni realtà questo fattore può essere ampliato o riduttivo. Poi ci sono i lavori di attesa, tipo nella sala operatoria è importante che ci sia il tecnico di radiologia, ma poi noi siamo lì come persona fisica a disposizione dell'ortopedico, del chirurgo, quindi riuscire a fare poi una valutazione dei carichi di lavoro in sala operatoria diventa molto difficile. Noi sappiamo che ci dobbiamo essere. Quali sono poi i lavori che contribuiscono alla produttività? La gestione del paziente, certamente, questo richiede tempo, l'uso della tecnologia nell'arco degli anni è molto aumentata, ma dobbiamo tenere presente che il rapporto con il paziente ha bisogno di tempo e la tecnologia questo tempo non riesce a darcelo. Quindi nella gestione del paziente entrano in gioco vari fattori. Il momento dell'accettazione, il momento in cui si prende visione del quesito diagnostico, il momento in cui si deve parlare al paziente per cercare di avere delle notizie anamnestiche, spiegare la tipologia dell'esame, mettere in atto tutte quelle regolamentazioni che il nostro codice deontologico e soprattutto le norme di radioprotezione ci consigliano barra ci obbligano a fare. Poi c'è la preparazione dei materiali e l'assetto della sala. Anche questi sono fattori che dobbiamo tenere presente quando si vanno a definire carichi di lavoro. I controlli di qualità sulle apparecchiature, uno dice ok, una volta c'erano le sviluppatrici a liquido quindi ci si metteva più tempo. Non è sempre vero perché più la tecnologia è fine, più le apparecchiature hanno bisogno di controlli di qualità specifici. L'aggiornamento è un fattore preponderante. Noi siamo tenuti a fare i corsi di aggiornamento. E' pur vero che si sente tante volte dire ai colleghi ma tanto anche se non lo faccio non succede nulla, è vero. Attualmente in Italia non c'è nessuna normativa che ci dice che cosa possiamo andare incontro se non facciamo i corsi di aggiornamento. L'affiancamento agli studenti, ai neoassunti, anche questo implica una valutazione di tempistica. Rientra comunque nel nostro codice deontologico ed è un atto dovuto per i nostri futuri colleghi. Quali sono poi le altre variabili che entrano in gioco nella definizione dei carichi di lavoro? Sostanzialmente dei fattori logistici e organizzativi. I fattori logistici è in primis il rapporto spogliatoi-sala di attesa che se sono inferiori a 2 per ogni diagnostica questo studio che è stato fatto ha quantificato un aumento del 10% della determinazione del tempo esame. L'età dei pazienti, i pazienti che hanno un'età inferiore a 10 anni e superiore ai 70 anni hanno bisogno di più tempo e quindi implicano un aumento del tempo di circa il 30%. Le tipologie delle richieste, le richieste in emergenza e urgenza, implicano un aumento dei tempi medi definiti del circa il 25%. E poi i fattori organizzativi che riguardano prevalentemente l'attività di coordinamento del reparto sono stati quantificati circa in 10 minuti al giorno. Questo è uno schema che è stato estrapolato dal lavoro fatto dalla federazione. Allora, tengo a precisare che questi sono tempi medi, non devono essere presi come dati certi e assoluti perché devono essere valutati da situazione a situazione. Esempio, nella definizione di una radiografia del torace che lo studio ha quantificato in una durata media di 8 minuti ci sono alcune considerazioni da fare tipo che tipo di tecnologia abbiamo all'interno di questa diagnostica? Quanti spogliatoi abbiamo per questa diagnostica? Nei centri più evoluti, se si utilizza un'apparecchiatura Chase Changer e con almeno 2 o 3 spogliatoi 8 minuti per ogni singola radiografia del torace possono anche essere tanti. Se abbiamo un paziente collaborante, ma se cominciamo ad avere ancora l'utilizzo della cassetta e ci arriva il paziente in carrozzina, paziente che è stato appena operato, paziente che non deambula bene i valori devono essere rivalutati. Per gli esami di muscolo scheletrica si vede che gli arti superiori, quindi gli arti superiori, il cranio, la colonna, le coste, la clavicola e le anche è stato quantificato un tempo di circa 15 minuti mentre per gli altri arti inferiori il bacino e le anche il tempo diminuisce perché? Perché sostanzialmente si perde meno tempo per preparare il paziente. Sull'esame del tubo digerente completo, questa è una valutazione che non spetta poi tanto a noi tecnici di radiologia ma più al medico radiologo perché in base alla clinica del paziente i tempi di transito possono modificarsi in maniera importante. L'esame di mammografia quantificato in circa 15 minuti anche qui dipende dal tipo di tecnologia se abbiamo un mammografo digitale il lavoro è semplificato se invece abbiamo ancora mammografi che utilizzano le cassette radiografiche e poi il CR non è vicinissimo ma è posizionato lontano dalla diagnostica e i tempi aumentano. Stessa cosa anche per quanto riguarda le risonanze magnetiche dove uno dice ma come mai c'è una differenza di soli 5 minuti tra una risonanza magnetica e una risonanza magnetica col mezzo di contrasto? La risposta è abbastanza intuitiva. Il paziente che fa la risonanza con mezzo di contrasto dura 5 minuti in più ma perché il paziente comunque ha già fatto l'esame basale già preparato sul lettino quindi volendo basterebbe una sola sequenza T1 post contrasto e i 5 minuti potrebbero essere più che sufficienti. I valori che comunque dobbiamo tenere presente che sono le variabili oltre a quelli che vi ho detto prima ci sono gli esami che vengono svolti in corsia ed è stato quantificato un aumento del tempo pari al 100% del singolo esame standard che è quello del torace. I pazienti ricoverati hanno un aumento delle prestazioni del 10% mentre gli esami che vengono fatti in corsia in ambienti diversi dalla radiologia hanno un aumento della tempistica del 200%. Quindi come vi dicevo prima la tecnologia è vero che è più veloce dell'uomo ma la relazione con il paziente pretende il suo tempo. L'uso di tecnologie digitali sicuramente favoriscono le cattive condizioni logistiche la scelta di tecnologie non è comunque sempre proporzionale a un aumento della produttività ma soprattutto della gestione del paziente e a volte ad una riduzione del carico di lavoro questo è dovuto soprattutto al maggiore controllo delle apparecchiature più sofisticate che richiedono. Grazie 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 Grazie